avevo l'audio dei UBS qua, tutto basso ah vai è bello, ah vai, questo è bello della dieta cosa vuoi fare? cosa vuoi fare? è bello della dieta ah signore vediamo la eh buona sera a tutti ragazzi dai infiati il concentramento qua vediamo se scetteremo fora e bestieme e se no niente maschilamente che sarà da bestemare che sarà da bestemare ragazzi ah eh specialmente qua specialmente qua ecco specialmente qua e sarà da e sarà da incassarsi ok e bene iniziamo subito iniziamo subito vaffan allora dai ok bene già avevo l'audio dei UBS tutto spento va in funk è perché io non capivo cosa... cosa che ah... vabbè io fan c***o Ein straffo ieri no ieri ne ieri da ti va dai avanti vabbè il fan c***o sono incassato dai no te oh no bastarda no no voglio una vita assolutamente ma banzia male ti dava una vita assolutamente affanculo perché ma perché ma perché va bene che è il primo crash che c'è un fiantino che sappiamo che c'è un fiantino dotato un fiantino non ci appartiamo bene perché c'è la prima versione però dai ma vaffanculo ok perfetto ok ma vai mi straffanculo anche la ah ma ma vai Aperdo subito, la maschera. Dai! Dai! Davaffa mi c***o... E che non c'è neanche scivolata? Dai! Non c'è n'entenza avviva! dai, ok, dai, dai, come anche i bumi no bene, proviamo a fare il bonus, proviamo a fare il bonus proviamo a fare il bonus no, perfetto via, a poco bene, faccio così ultisa a vedere se le faccio, ultisa non non No, no, no... Noo 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 Ecco, ecco. Come blocco fin do mamatina. Come blocco fin do mamatina. Re blocco fin do mamatina. Non è possibile. Re blocco fin do mamatina. E la maschera che puoi assanacalà. Bastardo. Bastardo. Vaffanculo. Non è possibile. Non è possibile. No 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 no. Non è possibile, maledetto. Vaffanculo. astardo Ufff 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 Non mi deve sacassare la fattura Bastardo F*** F***, I got him less ed f*** 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 lo tu non la lì non cuore ah dai non la oltre Brutta merda! Sì! 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 Ora dei coglioni! Ora dei coglioni! Ora dei coglioni! Vita! 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 Un culo! Uff! Uno, due, tre! Uff! Sì! 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 Luuuh! Calma! 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 calma, 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 calma calma un po' non c'è una vita uno, due ma perchè non riesce a fare il 3? ma perchè non riesce a fare il 3? il 3, il 3, il 3, il 3 perchè non riesce a fare il 3? perchè non riesce a fare il 3? vaffanculo 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 bastardo 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 si st mad GWEN e adesso qua, eh eh eh, siamo alla fine, non mi ricordo che siamo alla fine siamo alla fine, siamo alla fine Merda E qua è un nuovo avviso Eh, eh eh, eh eh eh, non... Guarda, immaginavo, immaginavo, immaginavo. Lo faccio perchè è così male. Il primo che faccio è male. Ma va a fare una che toccasse. Sì! 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 Faffanculo! Il verde! Carada! Sono tutto su là. Sono tutto su là. Non c'è possibile. Ah, credi? Credi che sono tutto su là. No! Merda! Sì! 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 Non so ne daughter. Loあるá. Giù la madre. Non so... Guarda che beca le clientasome, ragazzi, guarda che beca la clientasome. l'ho fatto un feo di frisco, ho fatto un feo di frisco un po', non ho fatto un feo di frisco però si sta bene baffa borsi, vada nero, jet bot, aspetto ok va bene, va bene vediamo vediamo, vediamo, aspetto, calma, calma, calmi, 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 calmi perfetto 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 con calma con calma bi no no 5 non no vabbè, facciamo perdere, facciamo perdere bastardo io mi consumo tutte le vite così, mi consumo tutte le vite per cagare, per cagare beh aspettiamo no anche eeeh ne problemi ho deciso, ho deciso di incassare non è, ma sono buono questa paramina no? sono buono questa paramina no? io vediamo se, questo è un crash castrato, questo è un crash castrato eh? hai visto? vada a f*** non voglio fare i bonus ma non ho garantito niente non ho garantito niente io ora mi sono eh si ciao, dopo buco del dojo buco del dojo buco del dojo ah ti mettermi pure soltanto, prendiamo solo tempo a questo punto qua tanto eh, ho visto spedito tanto tanto portare bastardo che no? qui li ho un consumetto? evo, un cazzo di quei crisi dov'è neanche... è neanche appunto come ti vedi tu è neanche appunto come ti vedi tu è neanche appunto Scusate ma è il maniale che mi viene in su Dopo modificherò il dito scusate Ehm... modificherò il dito e l'arico Dai 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 Merda Per ora dove che passa? Forse faccio anche due tnt Ecco Ecco Passo ora questo momento? Tutte di vita si Passo ora si Passo ora si Per ora che sono da piedra? Per ora che non sono da piedra? Per ora che non sono da piedra? Coglione Dai è più difficile che vuoi bruciare è più difficile no ora devi fare i prendi male detto male detto ha fatto mettere vai ha fatto vai franempo ma hai consumi tutte e tutte e vinte vai dai 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 importa 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 rispondiamo mi tocca al capale in speo in quel caso mi tocca al capale in speo che dopo è che poi parte ok, se no, non neanche, perchè se muovi talmente brutta merda e cosa mi serve? qui mi serve per quello perchè se mi indosso e dopo non vaffanculo è più difficile dell'originale è più difficile dell'originale ragazzi non ne rendi conto niente c'ho, niente c'ho, niente c'ho no è più difficile dell'originale è più difficile dell'originale è più difficile dell'originale è più difficile dell'originale è più difficile è più difficile è più difficile Game Over Ma l'affa tu metere Sì 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 Non mi ricordo dove salta, non mi ricordo dove passa Poglione 8 metri E' inutile che mi mette la maschera 8 metri Un'atome di concentramento ragazzi, un'atome di concentramento è sussito Però che metta tranquillamente a razonare Per questo punto qua E' oh Un'atome di concentramento Un'atome di concentramento Vedete bene Un'atome di concentramento Dai Um Fa Fi E Dai 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 Sì oh mai ma che buo ma che buo ma che buo ragazzi ancora mai ancora mai ancora mai ancora mai ancora mai ancora mai ah 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 perfetto ah perfetto oro oh ah 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 E loco, io loco, io loco ergo benedio ergo benedio a tutti dai Alla 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 Cosmo passa Cosmo passa Cosmo passa Alla Oh Va bene Alla Ah, come è gioco! Non è il primo. E-Born! Eh, ah, l'altro! bene adesso non mi serve più tanto ma sono bene porta una cosa che si è fogo è fogo ma in aula scurna guarda 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 Osh! 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 Edi! Sono perdere a vita ma gozo a canse! Pange di niente! Eccola! Osh! 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 il nastro, dobbiamo stare in mezzo va bravo va va bravo poi passo di più ok 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 Voi che i miei? Voi? Voi? La mia bese? Voi? 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 hable hable a viene a viene a viene saraniente saraniente non ho ancora maschera 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 Ma fatti un mettere in cuore. Grazie. 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 Noi, un po' mazzo, non ne sto capendo... Non ce che faremo in assenza, non ce ne prende in un latino... Anche a me, ma... Oggi è chiaro che questo è siccissimo Ma non è piaciuto il passaggio Chi è corona? Chi è turno? Chi è tornato? Ah... Quattro Ciao Ehi, ragazzi, vittà la, vai Ehi, la vita sono a perdere faccio i suoi pumi faccio i suoi pumi ma non è facile faccio possiamo perdere la casa anche se so cosa che mi serve ecco ecco prima di andare a tempo 7 pere ok 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 ah ecco ah ok 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 però non sommo gli indietro Il problema, il bonus è perfetto, ho provo di rifare perchè me ne ho provo delle vite, me ne ho provo delle vite, ovviamente è la fame, però... ... come un po' di mille . . . . . . . Ah, questo è un po' sceglie, un po' sceglie, un po' sceglie, un po' sceglie, un po' sceglie. Sceglie, un po' sceglie, un po' sceglie. oh no a me no no Non è vero. Non è vero... ...dia che mi avvicino a preparare la forma. ...e che è a fare? ...e che mi avvicino a preparare la forma? ...e che si muove. ...e che si muove a fare? ...e che sta? da vomitare da vomitare no dai sta tranquillo da vomitare da vomitare da vomitare acqua, non riesce niente form sodene ass Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. sono tutto sua sono tutto sua sono tutto sudato facciamo l'ultimo ragazzi, facciamo l'ultimo e dopo ci salutiamo dopo continuiamo la prossima volta, vediamo quanto lungo è abbono, abbono sto qua è più freddente, è più freddente è sta cosa è più freddente di tutti, insieme a quella della nebbia è freddente trovi, è freddente è freddente è freddente è freddente è freddente, siccome è freddente, sto a tutto e mazza, questa è la barriere, è stata ovviamente inizia la vita è freddente Ehm... 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 ah va bene ripetiamo 2 1 1 1 1 1 1 buono 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 un maniata a mordo retorno i 2 punghi non mi interessa vado via viene qua va bene ok perfetto ma di nuovo prova dai che sei? ci siamo ancora sono poca vita uff e qua che sei? più di 3 uff vai bravo guardate guardate alla fanno puh no e qua, e qua, qua fanculo e qua, molto spedito ragazzi, molto spedito cerchiamo di fare le hoce ok, 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 ok bene, evitami sempre ok, 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 ok e ero finio, ero finio, ero finio, ero finio, ero finio e incontra però ero finio ero finio, ero finio livello ero finito livello dove cacchio vado andare? De qua. De qua può andare. No. No, mi ero bustuta la vita. Ehm. 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 Tu me va andare? De qua? De là? Ehm. 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 L'unica piattaforma che non si cala via? Ehm. 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 Viia, 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 viia. Viia avant all'arri. E io, dove va andare? Di qua. Cугliaone! I fan. Ho consumato tutta la vita. Ho consumato tutte le vite per niente. Ehm, ormai, ormai, avrete, ormai lo facciamo. Per niente, non capisco altro. Però rinco io nero. Sono rinco io nero, ragazzi. Non fa senso. Ultimo livello, e dopo ci vedremo. Oh, va bene. Oh, va bene. Oh, va bene. Oh, va bene. dai 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 perfetto 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 vaffanculo non so che vedi tanto ragazzi non so che vedi tanto ragazzi dai perfetto 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 Ok ok avviciniamo 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 perfetto avviciniamo 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 mazza avviciniamo 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 potete prendere è che sono meglio che hanno usato avviciniamo ericiniamo ericiniamo Ah no, ah no, a vero il porta, 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 vedremo, 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 vedremo qua, ah ancora, va bene? Oh no, lunettron Va bene, inizio oder stare cari da me doveva? ellerare i schai cherche a chaparmi della pittà e adesso arrivare i schai fazem la pittà, perfetto Qua? 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 Arrissi? Eh! Ah! Tragli posto! Tragli posto non si viene dai! Shhh! Shhh! Non si viene! Non si viene! Ah! Valsan! Non sono ancora! Trastardo, 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 trastardo! Il cominite? Non sia possibile. Non si è strano proprio alla fine. Non si è strano proprio alla fine. Non è possibile incastrarmi proprio a fine, non incastrarmi proprio a fine, non incastrarmi proprio a fine. Non incastrarmi proprio a fine, non incastrarmi proprio a fine, raccomando grazie, non incastrarmi proprio a fine. Non incastrarmi proprio a fine, non incastrarmi proprio a fine. Non incastrarmi proprio a fine, non incastrarmi proprio a fine. e se incasteremo proprio a fine se incasteremo proprio a fine grazie a tutti si incasteremo proprio a fine eh si ci sentiamo continuiamo la prossima volta e basta il livello si trova non me lo ricordo non me lo ricordo lasciate like e iscrizioni bene questa qua la continuiamo la prossima volta questa qua la continuiamo la prossima volta questo qua è da bestemare proprio il ponte proprio è il beo il ponte proprio è il beo proprio il bello ragazzi iscrizioni mettetevi un piaccio fate quello che volete a posto ragazzi noi ci salutiamo grazie per la cortesia attenzione e noi ci sentiamo la prossima ciao ragazzi a posto a posto ciao ragazzi a posto a posto basta ho su dato anche proprio tagazzi grazie